Spiegare le dinamiche della macchina comunale con metafore nautiche è la scelta di Matteo Garzella nel suo ultimo libro intitolato Sulla stessa barca, in cui coinvolge il lettore nei meccanismi della politica. Il presidente del Consiglio Comunale di Lucca, esperto in comunicazione, sottolinea che nella vita quotidiana, dopo il voto amministrativo, siamo un po' tutti come passeggeri che si fidano del capitano. Ma ci basta arrivare più o meno salvi in porto o non vorremmo piuttosto studiare anche noi la rotta per il bene comune? La metafora nasce dal presupposto che i cittadini conoscono poco come funziona la macchina comunale, quindi la metafora nautica si presta molto bene a questo scopo, lo scopo di far comprendere ai cittadini quello che noi amministratori facciamo quotidianamente all'interno del comune. C'è un comandante, c'è un equipaggio, c'è dei passeggeri, tutti questi soggetti in qualche maniera hanno a che fare con i processi decisionali che vengono governati all'interno del comune, con una sola eccezione che i passeggeri, in questo caso per noi sono i cittadini, hanno scarso margine di influire all'interno delle decisioni che prendono invece la parte dell'equipaggio, in cui abbiamo un comandante, il sindaco, un equipaggio composto appunto da un personale amministrativo, quindi i dipendenti del comune, una sezione diciamo di coperta, così viene definita, che sono per noi il consiglio comunale e gli altri amministratori, quindi gli assessori, poi appunto ci sono dei cittadini che vengono trasportati verso una meta che però appunto hanno difficoltà ad incidere direttamente nelle decisioni che prendono gli altri componenti dell'equipaggio. Il tema del bene della collettività, come scrive Piero Fassino nella prefazione, era già presente nella Repubblica di Platone nel 390 a.C., ma oggi è attualissimo e necessita...